Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cozai ASMA. Senti dei suoni c'è Sam? Comunque buona domenica creatura, buona domenica, grazie per il tuo supporto, grazie per il tuo like, grazie per continuare a seguire questa serie, siamo pochi ma buoni come dico sempre. Ho visto che hai votato il water numero uno, che anche se è brutto, come è stato detto nei commenti, anche da me, anche se è brutto, almeno quello che ci sta meglio. E quindi andiamo a posizionarlo e ho visto anche che ti è piaciuta la scala, insomma ci sta. Ok, allora, vabbè, dopo lo sistemiamo. Eh, non ho letto, sarà sistema, cos'è sistema nel frigo? Non ho letto. Allora, adesso io non so dove vuole la frutta e la verdura, di solito la frutta e la verdura nel frigo va riposta in quello più basso, da quel che so. Però, no, ci staranno tutti, tutto così, cos'è il melograno questo? Oh no, che disastro. Sam, mi guarda, perché faccio... Penso che sto chiamando lei. Forse, forse questi cosa sono? Zucchini giganti. Forse non andavano lì, ma ormai troppo tardi. Allora... Bello. No! Ups. Non so cosa siano questi. Ma comunque vedo che ci sono dei colori diversi. Questo è con te, sicuramente cosa ho sbagliato qualcosa. Poi c'è il mais, i piselli, questi, perché sono insacchettati così, dove vanno? Qua. Qua non li fa mettere, quindi per forza vanno qua, a questo punto, qua in questo socchietto, in questo cassetto, no scusami. Boh, va va. Pisa, le... No, le banane, non le mettiamo qua, le banane. Oh cacchio. Ma cosa sto spingendo? Aspetta, ok. Questo... Il caffè è buono, non lo so, le mettiamo qua. Altri piselli, ok. Non c'è... Non so cosa siano questi. Una cosa forse l'abbiamo messa giusta, però abbiamo preso uno stellino, dai, ma è che niente. Ok. Ok. Piselli. Ah, piselli. Ok, bene. E adesso? Allora forse andavano... Ah, ok. Sì, giusto. Probabilmente questi due andavano qua. E tutti questi andavano qua, distribuiti qua, così. Ecco. E... Non vogliamo. Ecco. Qui ci mettiamo le banane. E qua ci scravoltiamo tutti i limoni. Cioè, che strana spesa qua. Questo suo della spesa è molto particolare. Quanti sono... Cioè, prima fammi girare la cassetta, svuotarla proprio mettendola a capo, volgendola sopra o sotto. E invece... Niente. Questi limoni giallissimi. Perfetti. Però non di plastica. No, cosa abbiamo sbagliato adesso? Oh, non so cosa abbiamo sbagliato, però... Vabbè. Completo. Non gli va bene questo? Come devo metterli? Ah, aspetta. Ho visto adesso che erano di coloro diversi. Ci abbiamo fatto a prendere tre stelline. Molto bene. Yeeeh, ricompensa. Apriamo un regalo. Vediamo un po' cosa troviamo. Ti prego, una cosa bella. Una candela. Orribile. Vabbè, dai meglio di altre cose. Ok, vediamo, 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 vediamo. Bello questo, molto carino. Verde poi, con le piantine. Bello, questo mi piace. Ah, perché devo schiacciare qua per andare a casa? Eh, ecco perché. Ok, per fortuna riusciamo a acquistare questo volibile, ma senza dubbio, l'unico che ci azzecca è Vater. E avevo lanciato la sfida, quale è? A me, io avrei preso questo. Però tu hai deciso il primo e noi prendiamo il primo. Ok, perfetto. Finalmente un nuovo Vater, vado prima io. Frena i cavalli, vado prima io. Ma io non ce la faccio più. Bene, anch'io. Per fortuna che abbiano comprato, perché sennò qua non c'è questa cazzetta. Sto facendo la pipì. È censurato con una carta igienica. Adoro. Adoro. Ok, adesso dobbiamo cambiare qua il pavimento, la pavimentazione. Allora c'è così. Ma fa sempre parte del bagno. Un'altra stanza. Non è chiara questa cosa. Se sapessi che stanza è, magari potrei anche decidere. Vabbè, a questo punto mettiamo questa che è più economica. Ti ricordi il nostro viaggio in quell'antica città? Sì, certo che mi ricordo. Guarda le mattonelle di questo pavimento. Wow, sono identica a quelle del municipio di quella vecchia città. Che schifo. Che schifo. Vabbè. Secondo me l'avrebbe detto per qualsiasi mattone la scelta. Ah, è il bagno. Ma scusa, ma fammi scegliere una pavimentazione uguale all'altra. Perché devo avere lo stacco. Non ho capito sta cosa. Anche volendo non potevo scegliere la pavimentazione uguale a quella a destra. Cioè questa qui. Vabbè. È tutto sbagliato. Allora, c'è questa vasca da bagno. Questa qua tipo in rame. Questa qua tipo, sembra plastica. Direi che la mettiamo la prima, che è quella che ci sta meglio. Mi era venuta quella voglia di snack. Mi sto mangiando i cornetti. Quelli tipo virtual. Tipo le vele. Lo snack di mais virtual. Solo che li prendo a Lidl. E si chiamano. Con i bacon e cheese. Vabbè, non hanno un nome. Adesso che ho visto meglio. Se è snack. Snack day. E c'è Sam che è impazzita. Perché ovviamente li vuole. Ma non gli posso dare. Perché sono pieni di sale. Senti là. Ti chiuso fuori adesso eh. Au. Au. Mi fa au. Au. Non so se la senti. Fa troppo ridere. Au. Non sapevo fosse un gatto romano. Au. Eh. Ecco. Mi stanno arrivando delle zampate. Facciamoci un bagno insieme. C'è abbastanza spazio per entrambi. Luce rosse. Preferirei di no. Perché lui. Abbiamo già capito che. Non è etero. Perché. Le bolle mi spaventano a morte. Scusa. E questa è la scusa. Le bolle inteso come le pipsa. Vado a chiudere sempre fuori da questa stanza. Mi stanno andando le munghiote sul poppy. Aia. Il mio poppy. Sistema la roba alla perfezione. Eh vabbè. Allora. Non è due per tipo come al solito. Allora le bombolette. Se sono tre. Possono stare qua. E invece i colori qua acrilici. Se stessero. Così. Sperando che siano quattro. Che facciano stare qua. Ti amo. Senza un ordine preciso. Perché tanto anche se stai lì impegnarti. Non lo apprezzano in questo gioco. Ok. Accidenti. Le bombolette sono più di quel che si pensava. Non capisco l'ordine. Non capisco l'ordine. Così. Non lo so. Sicuramente non li andrà bene. Vabbè. E poi. Perché. Se sono uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro. Ne manca uno, due, tre, quattro, cinque. Non so se è uno di questi. Lo posso mettere qua in alto. Tre, quattro, cinque. Aspetta. Si potrebbe fare anche così. Però aspetta. Vediamo. Allora. Per logica mi verrebbe da far così. Tre, quattro. Ah, forse così. Ma se ne sono due per ogni tipo. Non capisco. Dove metterli? Aspetta, allora. Allora. Ok. Proviamo a metterlo qua. Dagli un senso. Cioè. Ma allora. Giallo. Giallo. La ragione ci sta, però. Vediamo se mi dà lo stesso. La trastastellina. No. Non gli è piaciuta sta cosa. Allora. Come c'è? Come vediamo? Così va bene. Così va bene. Senza alcuna logica così va bene. Ok. Perfetto. Vediamo cosa troviamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Il bidone della spazzatura. Che schifo di breve, scusate. Ottimo. Beh dai. Già meglio del bidone della spazzatura. Andiamo a riporre questi oggetti. Abbiamo tre stelline. Quindi possiamo arredare la tuccia. Dove sta andando? Palla. Vabbè. Allora. Vabbè. È grande. Non me lo aspettavo così grande. È d'agia. Ma che palle. Dove me l'ha messo? L'ho perso. Ah. Qua. A bruciare. Sul camionetto. Molto bene. Allora è grande. È così grande. Non me lo aspettavo. Ci starebbe bene in bagno a questo punto. Non si può. Volevo girarla. La mettiamo qui. Un po' troppo appiccicato. Ma. O così o così. Quindi. Vabbè. E poi. C'era. Certo che ho messo proprio questo davanti. Ma che sia un accappatoio questo? Ma porca miseria ancora. Non so gestirla questa situazione. Mi sa che questo è un accappatoio. La mettiamo in bagno. Perché è bianco. Vabbè. C'è una piantina. Questo lo possiamo. Dicevo c'è una piantina che è partita della buccia. Bomba. E durante la buccia da mangio. Possiamo mettere sul tavolo. Ha un bidoncino piccolo. E ancora. E che fanno. Ecco proprio lì. Volevo metterlo vicino al water. Perfetto. Poi. Ah grande questo. Ma perché troviamo queste cosche giganti? Quindi vuoi questa cos'è? Boh. Si può mettere in giardino secondo te? Proviamo. Non me la fa più prendere. Ok. Ok. Poi. Perché si bagga? Allora la pianta. La sposa. Ok. No. In giardino non me la fa mettere. Vabbè. Però adesso la fa mettere anche nell'altra stanza. Perché è pagata. Cioè non è pagata. È chiusa. Quindi. Boh. La mettiamo in bagno. L'unica stanza. Do. Qua. No. Che fa? La mettiamo qua a caso. Benissimo. Adesso. Dopo le varie. Ah ma c'è la candela anche vero? La mettiamo qua. Ogni volta che mi sentirei masticare il rosicchiare saprei che c'è stata una pubblicità adesso. Dicidiamo una doccia. Beh. Beh. Allora in realtà starbbe bene questa ma nera è più bella. Quindi la mettiamo in nera. Adoro le docce. Pensavo che preferissi le vasche da bagno. Adoro l'acqua in tutte le sue forme. Come bagni, docce, piscine, bozzanghere. Beh. A quanto pare vivo con una sirena. E si fanno la doccia insieme. Con i vestiti. Lui è vestito. Scioccante. Ed è tutto censurato con la cardigenia. Molto bene. Allora. Niente. Si va a giocare per un altro round. Stai male la roba alla perfezione. Wow, torte. Non ho preso neanche il pastellino. Secondo me... Allora io ne posso mettere pasticcini. No. Però non so se ci sono per tipo. Non lo so. Ma non l'ho preso questo. Non lo so. Ma a mano che li sfornano capiamo se ci sono per tipo. Oppure no. Quelli al zoccolato. Quelli a panna. Sì, guarda, guarda. Forse qua ci abbiamo azzeccato. Forse, forse. Ah, forse sono tonde e quadrate. Vabbiamo a far così. Vediamo un po' se abbiamo avuto l'intuito giusto. Ma penso di sì. Mi fa voglia questo qua. Il cioccolato. Ammazziamo anche questi. Ma lo mettiamo. Pubblicità. Ma non credo ci sia una logica nei colori. Perché tanto che se mi impegno... Ah, e vai. Tre stelle. Vediamo cosa vinciamo. Vediamo cosa vinciamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Che cacchio è? È una cosa da mangiare, forse. Vediamo cosa troviamo, vediamo cosa troviamo. Ma dai, per caso abbiamo trovato una pianta? C'è una loro piante? No. Non che mi facciano schifo, però. Vorrei vincere anche qualche arreto un po' diverso. Andiamo a posizionare l'altra pianta. Ah, sì, c'era questo. Non so cosa sia. Lo schiaffiamo qua. E poi c'è una pianta gigante che volevo schiaffare qua. Ma è troppo grande. E quindi, niente, le mettiamo qua intanto. Quelle distribuiremo pian piano per tutto il perimetro della casa. Però per adesso non ho tante stanze. Quindi... Che cosa dobbiamo acquistare qua? Una finestra? Ah no, il... Ah, infatti mi pareva bruttino quella tendina, no? Della doccia. Eh, qua si vede tutto, già. Eh, quella nira perché... Guarda che sembra un cancello. E' una bella parete per un po' di privacy in più. Eh, beh, è proprio privacy quella lì, trasparente, certo. Ma è trasparente, esatto? No, che non è trasparente. Ma sì, guarda. Lol. Ecco, i nostri discorsi li hanno fatti anche loro. Qui cosa manca? Ah, lì dove abbiamo messo l'accappatoio, giustamente, andiamo a posizionare un mobile che non ci starà. Allora, bianco, nero. Ci starebbe nero, ma bianco mi sembra più grande. Eh, prendiamo bianco. Anzi, come al solito quando sono indecisa. Facciamo così. L'uscita per sbaglio dall'inquadratura è partita una pubblicità. Eh, proprio, avevo già qua lo snack in mano. Allora, non so dove è finito l'accappatoio. Eh, è finito qua. Allora, l'accappatoio lo vedo un attimo, tutto in buonanamente qua. Allora, adesso devi scegliere, creatura, tocca a te. Mobile bianco o mobile nero? Allora, il mobile nero ci starebbe meglio con la questione dolce, però è più piccolo. Mobile bianco è più grande, credo che abbia lo stesso numero di minsole. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, sì. Oppure un mobile dorato, ma non c'entra proprio nulla, fa veramente cacca. Quindi io direi uno o due. Ci sarà qualche rebel che dirà tre, ma non verrà considerato. Proprio. Scegli, creatura. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia soprattutto fatto rilassare. Come sempre ti auguro buona domenica, buon riposino, buonanotte, buon relax. Ciao, creatura. Ciao, creatura.